Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ci sono delle scale che dobbiamo assolutamente conoscere. Ce n'è una in particolare che è presente in moltissime canzoni, quindi io vi consiglio di impararla. Vediamo qual è dopo la sigla. Cantare in Libertà Bene ragazzi, quello che vi voglio consigliare oggi è di imparare una semplice scala di tre note che solitamente è presente in moltissime canzoni e che io vedo fare un po' approssimativamente in alcuni ragazzi e è una scala di tre note discendente, cioè tipo Quando ci sono le canzoni con questo tipo di scale io sento fare anziché sento sempre come se non fosse mai precisa e come se soprattutto la nota centrale non si sentisse quasi mai. Facciamo degli esempi pratici. Nella canzone Shallow di Lady Gaga ad esempio quando lei dice Oh do you need more Oh do you need more io sento sempre fare Oh do you need more more e mai more Quindi quello che noi dobbiamo fare è rallentare all'inizio questa scala se non riusciamo ad essere precisi e fare More Oh do you need more Facciamola lenta in modo che il nostro cervello immagazzini questo meccanismo lo memorizzi e quindi poi verrà anche veloce More More E questa semplice scaletta è presente in tantissime canzoni Facciamo altri esempi Cinque giorni di Michele Zarrilo Ti sto implorando Aiutami a distruggerti Ti sto implorando E non Ti sto implorando La rondine di Mango Qua c'è sia a salire che a scendere Facciamola lentamente Sei nel cielo Già qui c'è Cielo sbagliato Quando nasce un amore di Anna Moxa Da quando nasce a quando vola Vola E non vola Vabbè abbiamo capito il sistema qual è Quindi rallentiamo questa scala Da quando nasce a quando vola E poi ci verrà sicuramente Più veloce Bruno Mars When I was your man When our friends talk about you All it does It just stay on me Down Down C'è sempre questa scaletta che scende Quindi impariamo questa scala Poi se voi avete altri esempi da fare Magari lo scrivete nei commenti Se vi accorgete che questa scala è presente in altre canzoni Ma sicuramente perché è veramente molto diffuso Questo modo di chiudere una frase musicale Con queste tre note Bene Quindi esercitatevi a fare questa scaletta piano Facendo attenzione a farla prima lentamente Perché non è così semplice E poi a velocizzarla sempre di più Non abbiate fretta perché altrimenti scivola Diventa così E io poi la settimana prossima Vi faccio fare un vocalizzo Proprio per sviluppare meglio Questo tipo di scala E lo vediamo tutti insieme al pianoforte Mi raccomando allenatevi E noi ci vediamo la settimana prossima Ciao